il paese dei balocchi solo su climbing radio bene e come anticipato eccoci in questo nuovo diciamo formati questa nuova opportunità che abbiamo qui al paese dei balocchi su climbing radio che è quella di dialogare così non ho solito monologo la mia voce noiosa ma dialoghiamo con personaggi di volta in volta diversi bulveristi che ritengo aver qualcosa di importante da dire e oggi abbiamo il nostro primo ospite che è un amico collega soprattutto grande amico oltre che collega al nostro lavoro a manga climbing e che è Matteo Arnodo quindi ciao Matteo e grazie di essere qua con noi ciao Arbi grazie a te ciao a tutti e innanzitutto abbiamo tanti io e Matteo ci confrontiamo appunto l'opportunità di vederci di persona spesso ci confrontiamo da tempo sul sul bulver su che cos'è il bulver l'etica del bulver il modo di intendere il bulver e Matteo è stato anche una persona importante nel nell'assistermi nel darmi sempre consigli preziosi per il mio libro di manuale di bultering e quindi è stato scontato chiedere a lui proprio di iniziare questa serie di incontri però prima di parlare dei nostri vari temi che ne avremo moltissimi e vedremo su cosa focalizzarci Matteo parlaci un po' del un po' di chi sei come bulverista di com'è iniziata la tua passione per il bulver ma allora diciamo che passo al bulver dalla falesia un po' penso come come tanti prima degli ultimi anni e principalmente per il fatto di essere spesso da solo andare a piccare facendo fatica a trovare dei partner ho detto boh ok iniziamo a scalare da soli e quindi avevo preso due crash piccolini all'inizio e andavo in quelle aree che allora erano un po' sempre erano un po' meno rispetto ad adesso e però conosciute della bassa val d'avosta quindi principalmente il cubo successivamente sean porcet e gabi perché diciamolo tu sei di biella giusto io sono di biella sono di biella il nome di paese che è già una garanzia di penenza già il nome stesso e infatti sappiamo che a biella ce ne sono di climber sia storico altri climber che si tengono esatto esatto in primis da dall'uomo con muscolo unico climber storico italiano che è il nostro caro alberto nierro ovviamente proprio personaggio ispiratore anche nella nel boulder italiano proprio nella rinascita del boulder in italia e poi vabbè chiaramente il nostro carissimo amico niki ceria che ovviamente veniva tutti da lì sì certo i blocchi di albi sono stati all'inizio per me quei pilastri che guardavo con occhi sognanti che poi negli anni mi hanno portato a dire ok sono degli step che devo fare per forza per poter capire delle cose per quanto riguarda poi lo spostamento in altre zone è stato un po più una scelta personale di esplorazione di scoperta diciamo che dopo i primi due anni in cui ho scalato principalmente in bassa val d'aosta da solo ho iniziato a spostarmi un po in perché avevo bisogno di vedere di capire che cosa ci fosse al di fuori ecco giustamente per confrontarsi con quelle che sono le pietre miliari storiche del boulder che appunto pur noi sempre enfatizzando l'importanza dell'esplorazione però è altrettanto importante comunque esplorare con alle spalle l'esperienza di aver visto quali sono le linee come venivano identificate linee poi diventate pietre miliari del boulder di ticino abbiamo la fortuna che per noi è comunque relativamente vicino è chiaramente nel negli anni 90 in poi la mecca del boulder mondiale quindi lì si vede appunto cosa vuol dire identificare una linea per poi saperla applicare sui propri massi sì sia molto interessante vedere sempre appunto come è stata interpretata una linea su un masso perché poi trovare lo stesso masso non vuol dire nel quale non c'è già stata una linea salita non vuol dire poi interpretarla nello stesso modo quindi anche tornare poi nelle proprie aree di casa dopo viaggi viaggetti così a vedere altro da sempre nuovi spunti di visione certo assolutamente assolutamente appunto hai menzionato viaggi e viaggetti è una delle tematiche che volevo affrontare con te proprio alla luce di quelle che sono state le tue attività da sempre ma poi anche nelle due ultime estati che ti hanno portato proprio nel viaggio come appunto è una questione diciamo a mio parere fondamentale nell'approccio al boulder cioè viaggiare viaggiare che magari per qualcuno penso a tanti alpinisti magari che hanno un'ottica più alpinistica che sempre hanno ritenuto un pochettino il boulder qualcosa di minore due sassetti poco di pochi metri e l'idea magari di viaggiare anche dall'altra parte del mondo per salire dei massetti pochi metri magari può sembrare una cosa diciamo una perdita di tempo e di risorse a fronte di di altre cose invece il viaggio comunque è un qualcosa che nel boulder è fondamentale e tu nei fatti due negli ultimi anni in due location che per certi versi sono come dire contrapposte come come visione perché da una parte tu quest'anno e partirei da lì sei andato a rocklands quindi per certi versi una mecca meravigliosa ovviamente purtroppo non ci sono ancora stato ma meravigliosa del boulder ma che è stata è diventata anche il simbolo della massificazione nel viaggio stesso mentre lo scorso anno si è andato a l'edofoten quindi in norvegia in un posto invece già sviluppato ma molto meno conosciuto quindi partiamo da qua il tema del viaggio e poi parliamo partiamo da rocklands ci sta ma allora innanzitutto rispetto a quello che dicevi tu appunto sul tema del viaggio secondo me è fondamentale proprio per quanto riguarda quello che dicevamo un attimo fa l'aspetto della ricerca cioè secondo me nel boulder outdoor c'è questo aspetto che deve essere fondamentale per vivere un'esperienza piena di una disciplina che appunto è outdoor che è legata a dei fattori che non sono solo sportivi che non sono solo la salita in sé ma c'è un contesto la ricerca è un aspetto fondamentale perché è ciò che ci che ci muove a trovare qualcosa perché ricerca e poi successivamente scoperta quando scopro qualcosa che mi piace allora sono motivato ad approcciarmici secondo me è questo ti interrompo per certi versi è una bellezza ancora più marcata del boulder anche dal punto di vista del suo essere estremamente democratico e mi spiego ed è per questo che tante volte io mi infastidisco mi arrabbio a fronte della proprio estrema massificazione che porta le persone tutti su quelle linee già sviluppate in quelle aree senza guardarsi intorno cioè a differenza di un'arrampicata in falesia o dell'alpinismo stesso che comunque richiede anche nel trovare esplorare nuove cose un certo tipo di logistica non scontata sia dal punto di vista parlo nell'alpinismo di una certa esposizione a dei rischi dell'ambiente sia nella falesia stessa il fatto che comunque se andiamo a esplorare una falesia dobbiamo chiudarcela quindi non è una cosa scontata e richiede anche quella esperienza nel boulder invece il fatto di esplorare non solo blocchi già esistenti ma proprio l'idea dell'esplorazione e della creatività è alla portata di tutti perché basta trovare un sasso basta pulirlo nel modo corretto ma pulirlo con una spazzola e quindi è un peccato che appunto questa visione creativa si sia completamente persa nel boulder attuale o si stia completamente perdendo nel boulder attuale sì ci sta per certi versi però è diversa l'esplorazione anche perché è più facile identificare dal mio punto di vista una falesia comunque una parete rocciosa molto più ampia molto più visibile piuttosto che andare a ricercare dei sassi in mezzo a una pineta che non li vedi fino a che magari non giri dietro a una parte più boscosa diciamo però è anche vero che dà un quel fascino un po' di più da cercatori di funghi secondo me è molto interessante secondo me è molto interessante a me un paragone che piace fare è un po' come andare a funghi a me piace andare a funghi e lo trovo molto simile perché finché non giri dietro alla pianta non hai effettivamente esplorato tutto il bosco non puoi dire di non aver trovato i funghi e con i sassi è molto simile secondo me e poi oltretutto vabbè c'è anche il fatto che comunque uno parte sa già proprio per questo che parte già la partenza e l'andare è il significato stesso del mettersi in moto nel senso che non sa cosa troverà e quindi il bello del partire il cercare come dico sempre cercare senza per forza dover trovare è già di per sé un aspetto affascinante del boulder appunto nel partire e cercare sassi certo che fa parte anche dell'uscire un po' dalla zona di comfort perché se tu vai verso qualcosa di certo sei comunque sempre nella zona di comfort quando vai e sai che stai dedicando del tempo a una cosa che magari non ti dà nulla già di per sé uscire dalla zona di comfort poi io parlo un po' da pigro perché spesso preferirei ozziare piuttosto che fare ore di camminata su per una riva a cercare un sasso però alla fine poi è sempre gratificante quindi assolutamente secondo me la zona di comfort è un aspetto cruciale su cui riflettere che penso che faccia parte di tutta l'arrampicata in sé alla fine si si certo al meglio in qualunque sua forma nel momento in cui appunto usciamo dalla nostra zona di comfort fisica e mentale bene torniamo appunto ai viaggi proprio come quelli che hai fatto quindi Rocklands sì allora Rockland beh Rockland conoscono tutti è abbastanza incredibile ci sono una quantità di massi incredibili e lì l'aspetto dell'esplorazione secondo me è molto caratteristico perché nonostante siano decenni che si scala in quell'area nonostante ci siano stati arrampicatori di ogni genere di ogni cultura provenienti da ogni parte del mondo c'è ancora del potenziale questo secondo me è incredibile cioè proprio denota il fatto che sia Rockland cioè la terra di roccia ci sono solo sassi a perdita d'occhio e questo è molto interessante secondo me a livello ambientale e paesaggistico molto caratteristico e per quanto riguarda il boulder in sé ci sono dei passaggi secondo me veramente mega ci sono delle linee che mi sono piaciute tantissimo che ho avuto la possibilità di provare linee storiche linee magari un pochino meno conosciute anche se ultimamente sempre di più però magari non sono quelle più note e altri passaggi invece che ho solo avuto purtroppo occasione di vederli senza poterci mettere le mani un po' per necessità di eccoci abbiamo avuto un piccolo problema tecnico come spesso accade appunto Matteo ci stavi raccontando che oltre al hai avuto modo di provare dei blocchi a Rocklands che non conoscevi rispetto a quelli di tantissimi storici tra l'altro non so se hai visto faccio un inciso qua che addirittura visto che riguarda Rocklands addirittura non mi ricordo quale ditta ha prodotto l'intero masso di Rhino che è quel masso sericissimo di 7b, 7b+, a forma di rinoceronte e uno può acquistare adesso mi pare tutta la struttura del blocco tanto per dire come proprio legato a Rocklands ci sia anche questa parte come dire adesso chiamiamola commerciale anche un po' che lascia il tempo che trova però vabbè ritorniamo mi è avuto in mente Rhino proprio perché è uno dei blocchi forse il blocco più iconico di Rocklands io penso che andare a Rockland e non provare o comunque salire Rhino sia sia molto limitante cioè è bellissimo cioè non richiede chissà quanta visione non è un blocco che richiede che richieda visione proprio perché è talmente ovvio che sia una linea incredibile e che sia approcciabile solo in quel modo che vai guardi la vuoi salire la vedi dal sentiero da lontano da 300 metri e dici ok quel sasso non voglio salire è certo proprio come sempre l'estetica stessa del masso il contesto in cui è immerso quella cosa nel boulder appunto che va al di là appunto solito discorsi cioè è totalizzante il boulder dal punto di vista non solo della durezza del masso e per alcuni ormai sappiamo che è soltanto il numerino la letterina che li accompagnano che conta bensì com'è la linea la bellezza dei movimenti com'è appare la linea sul masso com'è il masso stesso e com'è il contesto intorno sono tutti tantissimi elementi che poi alla fine per chi ama il boulder davvero rendono speciale una linea particolare quindi ovviamente al di là della commercializzazione o massificazione che inevitabilmente poi lo condeno caratterizzare più che altro inevitabilmente cioè nel senso forse è quasi giusto che sia così eh certo certe linee vengano identificate come simboli di un'area o simboli di un percorso di qualcuno perché magari per qualcuno ha significato talmente tanto che è diventata iconica certo certo assolutamente il Fontainebleau non è diverso da questo punto di vista no no ma esatto ma qualsiasi area cioè il mio discorso è anche un po' più ampio forse nel senso qualsiasi area per ognuno di noi cioè ognuno ha quei blocchi che diventano iconici per i quali poi magari cerca di trasmettere a qualcun altro quello che ha significato per lui e quindi poi porta altra gente su quel sasso cioè se vai a riposo è una cosa se vai a riposo è la storia per cui il bulgar oggi è questo assolutamente portare altri a dire io ho vissuto questo mi è stato dato grazie a questi fattori quindi poi ognuno trova quello che è per sé e ci si riporta lì ecco assolutamente assolutamente e senti proprio abbiamo detto che Rocklands comunque in questi appunto ricordiamo innanzitutto esattamente non ricordo quando risalga l'origine di Rocklands ma penso intorno alla fine degli anni 90 siamo davvero prima del millennio che dove Fred Nicole fu il primo a visitarla primo noto a visitarla su diciamo invito di uno dei climber local del luogo e da allora comunque è esplosa quindi stiamo parlando comunque un'area considerata moderna però che lo è nell'ambito della storia più globale del bulgar che ormai ha ben più di un secolo però diciamo è sviluppata fin davvero dalla rinascita negli anni 90 del bulgar con Nicole e gli altri e poi chiaramente è esplosa esplosa per la sua bellezza immensa di cui parli per le sue tantissime possibilità per l'essere anche per noi diciamo abitanti dell'emisfero settentrionale del mondo una location per certi versi che a chi se lo può permettere comunque perfetta per fare bulder in estate perché lì andiamo e quando da noi è estate calda lì è stata fredda nel seggio chiaramente siamo nell'inverno e quindi combinandolo con le ferie estive è una location che inevitabilmente ha contribuito a portare tantissima gente anche per se vuoi per questa possibilità logistica di ricombinarsi perfettamente sì logistica ma anche economica perché comunque tu giustamente dici per chi se lo può permettere però diciamo che fare un viaggio di questo tipo quindi che richiede un minimo di 20 giorni 15-20 giorni perché ne hai 4 già di viaggio tra andata e ritorno quindi un minimo di base ce lo devi avere diciamo che è quello che costa meno cioè meno di così sì 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 è difficile giù la vita costa poco prendendo i voli per tempo noleggiando auto e casa per tempo alla fine viene a costare poco un viaggio comunque molto interessante secondo me ecco com'è la logistica da questo punto di vista voli quanti ne devi fare cioè ma in realtà dipende in realtà ovviamente dipende c'è uno scalo io perlomeno non ho visto se c'è il diretto non credo ci sia il diretto e fai o uno scalo o più scali noi per una questione economica perché l'abbiamo preso un po' più avanti nella stagione l'andata l'abbiamo abbiamo fatto due scali mentre a ritorno abbiamo fatto un solo scalo il viaggio di andata con due scali per quanto risparmi magari 250 euro è veramente molto impegnativo cioè da quando siamo partiti da casa quando siamo arrivati in casa giù sono ci abbiamo messo 42 ore quindi arrivi con l'aereo arrivi dove abbiamo fatto Abu Dhabi abbiamo fatto Milano Abu Dhabi Abu Dhabi Johannesburg e poi un volo interno africano Johannesburg Cape Town arrivi a Cape Town quanto tempo hai da poi prendi la macchina sì esatto non leggi l'auto e poi da lì a a Clown William che è il paese classico appunto vicino alla zona sono circa tre ore e poi da Clown William ti muovi verso i settori e hai i settori da dieci minuti a tre quarti d'ora di macchina perché poi comunque la zona è vasta quindi un po' al di qua del passo un po' al di là del passo poi ci sono invece i vari le varie zone con i vari campeggi e le varie casette che sono all'interno invece del del Park with National Park e invece lì sei proprio immerso dentro nelle aree buld perfetto roccia che è il sogno dei bulderisti perché quando parli di roccia e bulderista immagina l'arenaria e lì c'è l'arenaria però che arenaria l'arenaria è un termine ma ci può essere di tutto e di più com'è l'arenaria di Rocklands magari rispetto a una di che ne so di Rimeschia piuttosto che di Bosco Scorace piuttosto che ovviamente di Fontainebleau sì allora io ho visto l'arenaria appunto in questi posti che hai nominato ho visto l'arenaria in Basilicata e ad Albaracin e ti devo dire che a Rockland è arenaria ovviamente ma l'approccio e la gestione della pelle è molto più simile al granito molto molto più simile al granito anche lo stile di scalata è molto più simile al granito lo tacche giusto cioè le tacche la tacca domina tacche tacche taglienti tacche un po' più stondate piatti ce ne sono ci sono delle belle pinze se pensi a finish line delle preensioni della madonna lì l'arenaria è un po' più un po' più smooth un po' più liscia e un po' più gradevole in altri in altri passaggi invece è molto aggressiva molto dura molto compatta ma molto aggressiva se pensi prima nominavi Fred Nicole e ho avuto modo di provare e di salire sciosciolosa che secondo me è un altro dei blocchi iconici di Rockland e lì è incredibile quanto no incredibile quanto sia consumata la roccia no perché è abbastanza ovvio è incredibile quanto però abbia ancora grip e abbia ancora un dente nell'attacca quella centrale diciamo dopo il primo movimento c'è proprio un dente che è rimasto super super appuntito e quello è indice di quanto di quanto la roccia sia mega compatta pur essendo arenaria sì 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 è anche molto ginnica come scalata giusto molto atletica a blu dove dove sei spalmato dove comunque tante volte ti capita che fai un 7c e poi dopo non ti alzi su un quinto a blu ma proprio perché c'è una rampicata estremamente tecnica di sensazione a rocklands mi dicono che è più tendente alla fisicità diciamola perché ovviamente la tecnica c'è sempre però inevitabilmente però tante volte sono prese lontane molto fisica molto molto ginnica giusto ma allora sì molto fisica una scalata molto atletica molto da palestra se vogliamo che richiede appunto un'apertura un po' ampia per certi passaggi forza di dita e un bel po' di cor secondo me perché sei spesso o a perdere i piedi o comunque in posizioni strane non lo so penso a The New 20 dove non è né una questione di forza di dita né una questione di atleticità cioè è proprio una questione che sei con un piede strano in una posizione un po' scomoda ad andare a prendere una presa che sostanzialmente non esiste però non è così lontana e io non sono arrivato a toccarla per carità per me è un passaggio molto duro io non sono un riferimento su quel blocco però per dirti che nonostante la non lontananza delle prese alle volte c'è una posizione del corpo strana non farei troppo c'è una distinzione ovviamente a livello di fisicità necessaria tra font e rockland però sotto certi punti di vista è più fisico font cioè quando tu parli appunto di di una difficoltà che va dal 7c al quinto dove dici magari appunto faccio un 7c e sul quinto ci metto mezza giornata perché è una scalata secondo me font che è molto completa secondo me è più completa è più su questo esatto era quello che mi piacerebbe riflettere perché sui quinti di font scusami di rockland sono bene o male zanche sui sesti sono zanche o meno zanche un po' più lontane sui settimi si allontanano sempre di più i settimi sono zanche lontane magari un po' meno zanche più vai su più sono lontane fino ai vari lanci Airstar vari blocchi conosciuti con dinamiconi su prese comunque discrete o se no vabbè prese molto piccole che però richiedono più che una grande quantità di tecnica o di forza fisica molta forza di dita quindi è più questo è più facile identificare uno stile comune nei vari blocchi a font su quinti sei mega tecnico sui settimi c'è una scalata alla portata secondo me è un po' di tutti nel senso che è fisico però è quel fisico che ormai nelle palestre lo trovi sui blocchi medi medio duri medio duri sì e poi invece ci sono i blocchi duri i blocchi duri di font che hanno una quantità tecnica e o di forza fisica inteso in senso di compressioni compressioni con le gambe compressione in te nel corpo globale del corpo tonicità del corpo molto più si forse sai cosa richiede molto di più a font questo si manifesta andando verso l'alto se tu vai su e quanto più vai verso l'alto tanto più è facile che ci sia che si apre una varietà di di movimento nel senso dal 7a 7b e via via che vai su trovi forse più varietà mentre appunto per chi inizia se vai a fare i quinti i sesti comunque tante volte comunque la tecnica domina inevitabilmente anche perché appunto tu pensi che appunto queste caratteristiche di Rockland abbiano contribuito un pochino nel senso chiaramente se tu come ben sappiamo parli con tanti ma lo vedi anche dai risultati comunque la buona parte dei climbers tante volte parlo nella media ovviamente e per certi versi lo vedi anche se escludi se escludi chiaramente i local e se escludi linee come The Big Island cioè comunque vedi che rispetto a Rocklands Blue è molto meno diciamo appare molto meno anche sia nell'altissimo livello sia poi dopo nel parlare con qualunque tipo di climber che trova davvero lungo a Blue mentre Rocklands tutti sono lì per certi versi al di là del viaggio al di là del fatto che va bene in estate non pensi che anche questa sua tipologia di scalata quindi molto vicina anche per certi versi all'allenamento moderno da palestra indoor molto più se vuoi per certi versi meno complicata per quello che dicevamo possa aver contribuito poi dopo nel fare il suo successo il successo di Rockland beh penso sicuramente di sì nel senso che vabbè il periodo dell'anno in cui la zona è accessibile influisce secondo me come dicevi prima influisce tantissimo sicuramente lo stile lo stile aiuta a essere un posto accessibile perché sì se vogliamo è una scalata più semplice richiede richiede quella cosa lì in modo specifico però è meno complessa è meno ampia come tipologia di scalata secondo me diciamo che tanti approcciano il viaggio per anche solo determinati stili di scalata come può essere il lancio e vado a fare solo lanci mio carissimo amico Giovanni che è lanciatore provetto dedica il viaggio alla ricerca di quei passaggi lì perché secondo lui il lancio è l'espressione massima del movimento del builder e quindi nell'approcciarsi ad un viaggio arrampicatorio va miratamente a cercare quei blocchi così come lo si può fare anche a font quindi c'è similitudine in questo però io penso che sia meno complessa la scalata e questo possa aiutare per rispondere alla tua domanda penso possa aiutare diciamo che ci sono vari fattori secondo me che aiutano il fatto che io in un mese non ho preso abbiamo preso in un mese quattro giorni di pioggia poi adesso stavo parlando io in realtà mi piacerebbe parlare del fatto che è stato fondamentale essere in un gruppo nel viaggio sia questa volta che alle Lofoten è stato fondamentale dal punto di vista personale di come mi ha arricchito viaggiare con altre persone e fondamentale per l'approcciarsi a determinati passaggi perché da logistica intendi perché a livello di logistica viaggiare da soli secondo me è molto molto complesso e comunque sono anche abbastanza mediamente medio alti come a Rocklands come le strutture che tante volte mi sembra che siano anche proprio quasi dalle barre rocciose oltre al blocco in sé mi sembra che comunque in ogni caso siano sempre abbastanza altini magari con un'uscita più facile molto lavorata quello che si vede ogni tanto sui video ripeto io non ci sono stato ancora però comunque voglio dire sono piuttosto ingaggiosi anche da quel punto di vista quindi avere tanti pad inevitabilmente aiuta certo quindi sicuramente avere altre persone che ti aiutano nel processo del portare i crash sotto il blocco o darti una parata come si deve dico come si deve nel senso che con Giovanni mi sono trovato più volte magari a provare un passaggio con qualcun altro e non riuscire a passare perché magari ad esempio c'è un blocco che si chiama The Arc sullo stesso masso di Quintessential uno spigolo abbastanza alto con un atterraggio non bellissimo che è una cosa abbastanza particolare se vogliamo a Rockland dove invece il comfort nella caduta è una costante è abbastanza una costante mi sono trovato a non riuscire a passare fino a che non è venuto a pararmi Giovanni quindi questo secondo me è importante sì i massi sono tendenzialmente alti però appunto le zone di caduta sono tendenzialmente pianeggianti e le rimonte sui massi sono tendenzialmente molto facili diversamente sempre per il paragone che facevamo a Font dove spesso il crux è proprio il ribaltare su un blocco quindi quello sicuramente è più come dire ti porta più fuori dalla zona di comfort dover ribaltare sul difficile piuttosto che avere il duro a due metri da terra su un allungone che vai a perdere i piedi e quindi automaticamente cadi in piedi quindi alla fine secondo me ogni area ha le sue caratteristiche in ogni caso viaggiare da soli per quanto io ami scalare da solo nella mia zona di introspezione però sicuramente aiuta e permette di fare determinate cose certo a meno che ti chiami Nicky Ceria e ti fai degli sbattimenti notevolissimi anche soltanto secondo me questa è una delle cose per cui le sue salite hanno hanno valore il fatto che perché fino a che sei in un gruppo scali sempre in un gruppo e sei abituato a questo mood di di sostegno è difficile rendersene conto e vederlo effettivamente però tu prima mi chiedevi la mia il mio percorso da bulderista ovviamente come tu sai come altri sanno la visione di Nicky per me è stata fondamentale per strutturare poi la mia personale visione però prendere spunto da quello che è stato il suo percorso per me è stato fondamentale ho avuto modo di scalare con lui di capire il suo punto di vista e e ha e ha tanto ha tanto significato assolutamente e secondo me tante delle sue salite hanno molto significato proprio perché è spesso da solo o comunque accompagnato da un'altra persona dovendo comunque farsi degli sbattimenti molto interessanti esatto esatto magari si potrebbe parlare scrivere libri sul su tutte le avventure che ha fatto sulle linee che anche ha liberato che sono incredibili senti ti chiedo un'ultima cosa su Rocklands ed è appunto quello che da cui siamo partiti cioè per certi versi tante volte magari uno può essere un pochino prevenuto dal non ovviamente sulla bellezza strepitosa dai massi ma sul fatto che si è diventato massificato negli anni quindi magari anche un po' immagino magari che tu stesso per la visione che hai del Boulder fossi forse un po' timoroso di trovarti a Rocklands magari in mezzo a quelle scene allucinanti che si vedono ora in altre aree come il Ticino ma anche la Valmasino dove magari ti trovi sotto delle compagnie radio accesa bordello etica limitata quindi voglio dire com'è stato invece a Rocklands cos'hai trovato? questo è uno degli aspetti che mi ha diciamo colpito di più nel senso che era una delle cose che mi aspettavo come dici tu e che invece non ho trovato positivamente c'era un po' di gente a Rockland mi aspettavo forse più gente a livello proprio di quantità diciamo globale però l'area è talmente ampia che è difficile trovare una zona assediata secondo me o meglio per la quantità di gente che c'era poi magari ci sono stati periodi o anche quest'anno in un altro periodo magari a luglio non lo so c'era molta più gente quindi avresti trovato la zona più imballata ti dico che io da questo punto di vista mi sono trovato molto molto bene perché forse nel momento in cui approcci un viaggio comunque come dicevamo prima che ha un certo costo richiede una certa logistica e vai in quell'area magari principalmente per provare determinate cose perché sono quelle che ti hanno mosso da casa perché le hai viste in delle foto le hai viste in dei video le hai sentite raccontare eccetera forse ti muovi già con un'ottica diversa andare nella zona dietro casa a un'ora e mezza di macchina e dire tanto faccio il weekend mi svago oggi non c'ho cazzi di scalare me ne sto lì sotto con la musica faccio casino piuttosto che l'arrampicatore medio se vogliamo che arrampica principalmente in palestra e che va a scalare fuori solo di rado magari va fuori senza troppa senza troppa cultura senza troppa attenzioni senza etica se vogliamo però senza per forza ricadere lì no senza un giusto approccio outdoor non giusto per quello che credo io giusto perché l'outdoor ha un suo contesto che secondo me va rispettato secondo me in cui ti muovi così tanto da casa hai un background personale di base che ti permette di approcciarti alle situazioni in un certo modo per lo meno io l'ho vissuta così ho valutato queste cose qua poi magari non è così magari mi è solo un'altra bene però spero di no vabbè però vabbè meno male che alla fine voglio dire era così anche proprio perché spesso tanti comportamenti poi si manifestano anche in un degrado che inevitabilmente c'è sia sull'ambiente che sulla roccia quindi che la gente sia un po' più attenta da questo punto di vista sia nelle cose chiamiamone più più stupide come la musica non la musica che sono cose marginali per quanto comunque importanti però appunto che sia un pelo più attenta diciamo fa piacere saperlo per salvaguardare comunque come ben sappiamo massi e luoghi Teo allora io direi che abbiamo già parlato tantissimo di Rocklands come immaginavo che fosse quindi come puntata come questa puntata resta qua così quindi noi ci interrompiamo qui però continuiamo ovviamente e sappiamo parleremo di Lofoten le meravigliose isole Lofoten e quindi chi vorrà continuare per capire anche le differenze dei viaggi sa che si connetterà anche la prossima settimana al paese dei balocchi e troverà anche la nostra discussione sulle Lofoten quindi io intanto ti ringrazio per questa prima parte e salutiamo tutti per questo primo come dire step con il nostro Matteo Ornodo per parlare di viaggio e la prossima settimana continueremo quindi da Rocklands a una location invece molto più particolare da certi punti di vista che sono le isole Lofoten in Norvegia quindi grazie a tutti per essere stati con noi e ci sentiamo e vediamo allora la prossima settimana a presto woo